Formula 1 2016 benvenuti al Gran Premio di Germania siamo ad Hockenheim ma prima di entrare nel vivo della gara in queste giornate a cavallo tra l'ultimo Gran Premio e quello che stiamo registrando è venuto a mancare il telecronista Mario Poltronieri che vediamo adesso nelle foto è stato la voce ufficiale della Formula 1 dal 1970 al 1990 era doveroso ricordarlo un brevissimo maggio qua lo vediamo insieme a Enzo Ferrari suo il famoso modo di dire che il pilota andava di conserva che voleva dire che risparmiava gomme e allora benzina che è diventato poi un modo di dire e niente era ci sembrava giusto visto che abbiamo citato tante volte scherzando nei video precedenti fargli questo momento di ricordo ricordo esattamente questo invece è il setup lo diciamo tutti in coro anche voi a casa soprattutto te Andrea e niente serve per fare il 100% della gara non in giro più veloce solita solfa dai come avrà la macchina ve lo diciamo già no lasciamo la parola ai combattatori ufficiali oggi non vorrei essere da nessun'altra parte se non a Hockenheim per il gran premio di Germania quest'anno la gara sarà molto combattuta ci divertiremo di sicuro e a giudicare dalla marea di persone sugli spalti sono molti i tedeschi d'accordo con me questo fine settimana si corre nella valle del reno che ha dato i natali a tanti grandissimi piloti i 4 chilometri e mezzo dell'Hockenheim Ring richiedono grande precisione attraverso la sezione dello stadio e pura velocità a tavoletta sulla lunga curva che conduce alla zona di sorpasso del tornante di curva 6 credo che oggi assisteremo a parecchi incontri ravvicinati oggi ci sarà con me Luca Filippi la Mercedes Luca gioca in casa secondo te questo fattore cambia l'atteggiamento di una scuderia ovviamente una vittoria in casa stimolerebbe l'orgoglio nazionale con risvolti di marketing da non sottovalutare e finora ti sembra che sia così? beh onestamente non direi sicuramente quando un team corre in casa è più motivato si sente più importante ma stiamo pur sempre parlando di professionisti fermamente intenzionati a vincere ogni gara anche vista l'altissima posta in gioco per questo danno il massimo tutto l'anno sia nel Gran Premio di casa che in tutti gli altri oggi gareggerai sulla pista di casa del fornitore del motore cerca di farlo felice ma anche no eh allora già la Mercedes vince ovunque almeno in sta gara ci lasciassero un po' in pace tranquilli almeno rompessero loro così non rompono mi pare corretto allora per rendere più reale e vivo il Gran Premio io ormai giro con lo spruzzino nella FP1 spruzzino che mi sparo in faccia l'acqua perché la becco sempre allora in questo gioco al gioco piace la safety car e la pioggia perché almeno una volta GP mettono una delle due senti mentre guardiamo il giro di Okenheim poi ne parliamo dopo della pista come è stata modificata volevo fare una verifica di quello che è successo nella Formula 1 reale rispetto ai video precedenti allora avevamo detto che botta si tornava la Mercedes e così è stato le nostre foto si sono rivelate corrette e qualcuno storce il naso Massa l'ha tolto dal congelatore e ritorna la Williams come i nostri esodati pensionati della legge Fornero mentre invece che non ci aspettavamo era che una Manor si sono ritirati perché sono falliti e si è portato i libri in tribunale quindi prossimo anno invece di 22 macchine ne abbiamo 20 e l'airline il loro pilota va alla Sauber quindi sai che affarone che ha fatto però ce l'ha messo lì la Mercedes nel frattempo vedete questo pezzo di pista è il motodrome che è l'unico pezzo che è rimasto dello storico circuito di Okinaime poi ne parliamo dopo perché adesso vedete in alto sulla destra quel simbolo rosso vuol dire che nel nostro ultimo stint non siamo riusciti a migliorare il tempo e così decidiamo di tornare in box quindi vedete tutta questa fase che molto spesso non la vedete perché noi invece siamo dall'altra parte che tagliamo il traguardo siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi Lewis Hamilton parte dalla pole position e accanto a lui c'è Nico Rosberg e ora vediamo il resto della griglia una Williams Vettel Kimi Raikkonen e Ricciardo Verstappen Bottas Sainz e Fernando Alonso Kiat Grosjean Julian Palmer e Perez Verlain Hulkenberg Jenson Button e Rio Arianto Magnussen ed Ericsson Felipe Nasr ed Esteban Gutierrez completa la griglia è quasi il momento di accendere i motori andiamo in pista eccoci sulla griglia di partenza siamo come potete vedere in terza posizione davanti a noi chi ci sono? le due Mercedes fisicamente che non dovevano rompere hanno rotto partiamo partiamo subito bene riusciamo a mantenere la posizione vedete che il Rosberg è subito aggressivo si si è maschio è duro nel gioco nel gioco si nel vero poi tra l'altro ho letto oggi Lauda che ha detto che se non avesse corso con una Mercedes non avrebbe mai vinto un mondiale gentile da parte sua molto gentile si comunque Rosberg vedete cazzutissimo riesce a balzare subito ma qui Lauda non era quello del pilota che vince sulla macchina e non la macchina che fa il pilota infatti è proprio lui è quello che Enzo Ferrari lo lasciò a casa a suo tempo e prese appunto Villeneuve perché dichiarò che era lui che vinceva il mondiale e non la Ferrari comunque noi abbiamo superato il momento e ci siamo portati in seconda posizione altri tempi altri tempi c'era Enzo Ferrari andiamo invece con le telecamere quelle diciamo in versione televisiva allo stesso punto ma un giro dopo andiamo ad attaccare Rosberg e lo superiamo prendo la palla al balzo per vedere questa parte che è la parte nuova del circuito per dirvi che storicamente il circuito di Okenheim era completamente diverso da quello dei giorni nostri molto più veloce tipo Monza si era fatto a forma di banana e ci arrivavano veramente delle velocità incredibili l'unica parte guidata era il motorhome che è quella parte finale che abbiamo visto prima poi ci ha messo le mani Tilke insomma sarà valido per il pubblico che va a vedere in circuito le macchine molto meno per quello che riguarda lo spettacolo che ne deriva poi in televisione nel frattempo stiamo vedendo tutte le posizioni con tutti i vari piloti in questo caso Ricciardo a fine del gruppo qua noi abbiamo fatto un po' da tappo e li abbiamo tenuti tutti dietro eh sì qua devo dire che ci siamo divertiti perché era una muta di piloti uno più incazzato dell'altro a partire dalle due Mercedes e le gomme si sgretolavano sembrava come il grana padano sulla grattugia prima quando ci sono i bei maccheroni alla puttanesca da metterci sopra quella spruzzatina di grana padano noi qua ci stavamo augurando proprio quello che potete vedere ovvero che le altre macchine superassero le Mercedes Rosberg viene superato da una Ferrari quella di Ray Cohen e anche il nostro compagno Bottas che va al quinto posto ma come vedete Hamilton non molla e appena può cerca sempre di spingersi in questo caso ci riesce e ci dà quella spintarella giusta perché in trazione riesce comunque a balzare davanti a noi vedete che continuiamo a darcele nel frattempo c'è tutto un plotone di macchine che ad ogni curva ad ogni staccata si schierano a ventaglio siamo riusciti nel frattempo a riguadagnare la prima posizione ma vediamo la prossima clip dove in questo caso siamo obbligati ad andare un attimo larghi e apriamo la porta a Hamilton e a Ray Cohen e a Ray Cohen esattamente ci prova anche il nostro compagno a prenderci la terza posizione ma insomma adesso non esageriamo Bottas già al prossimo anno lo vedremo più e più volte sul podio ma basta andiamo ai box insieme a Hamilton 14esimo giro lo vediamo in all around open down se non aveste familiarità con l'inglese sappiate che quello che ha detto non vuol dire assolutamente nulla sono parole messe a caso usciamo del box Hamilton ha le gomme rosse lo pensiamo noi con le gomme gialle la prima staccata ma Lewis gli si chiude la vena non ce la fa ci deve stare davanti e vedete quello che succede e ci giriamo entrambi ci giriamo entrambi noi riusciamo ecco prendiamo il polistirolo e riusciamo a ripartire c'è una Renault anche che ci attacca ma lì ripartiamo di nuovo mentre Hamilton è rimasto fermo rivediamo il tutto dalla macchina di Hamilton e quello che succede lo vedete buon Lewis rovina una parte della gara ci stiamo aggiornando ci stava l'abbiamo messo nel frattempo però incredibile ma vero da prendersi a schiaffi sulla faccia la Ferrari è in testa al primo posto al secondo c'è Rosberg e al terzo Vettel al quarto come vedete c'è invece Ricciardo e al quinto Verstappen abbiamo messo un'altra clip di un doppio p-stop in questo caso la Mercedes e la Ferrari bello è quella immagine del box quasi poetica questo è Hamilton che è uscito dai box deve recuperare un po' di posizioni e supera Hülkenberg e subito dopo rompe il motore gli ha portato una fortuna a questo sorpasso e si è andato e ma perché avrà tirato comunque un Mercedes nell'ultima gara abbiamo visto un arrosto Ferrari anche a Stoccarda va bene in questo caso invece siamo noi in lotta con Rosberg teniamo duro nel senso che andiamo giù pesantemente Rosberg vedete ci manda a quel paese siamo nel pieno del motorhome e anche qua ci andiamo a agganciare e vedete lo spingiamo un po' fuori quel tanto che basta per far sì che noi rimaniamo in prima posizione e dietro di noi le due Ferrari in questo caso però le due Ferrari giro successivo vedete ci riattaccano prendono la scia e Vettel si porta in prima posizione noi poi non ce la siamo sentita di giocare un po' sporco come tutti non ce la siamo sentita e tra l'altro in finita posizione là dietro c'è un alonso c'è un alonso così a caso non lo sa neanche lui come è lì ma è lì volevo farvi notare che siamo al ventinovesimo giro e siamo veramente appesi con le gomme in una maniera scandalosa squalida siamo quasi al 70% dell'utilizzo dell'anteriore sinistra ed è veramente difficile riuscire a mantenere la strada in questo caso vedete un doppio sorpasso a destra Recon a sinistra Rosberg noi però tiriamo una frenata assurda e riusciamo a riguadagnare la posizione ma non per molto perché Rosberg ci accompagna fuori dal liceputo e quindi ci fa accomodare fino a vedere la classifica del trentesimo dove vedete Vettel Recon Bottas Bottas che siamo noi Ricciardo Verstappen l'unico con le gomme rosse invece è Perez è in dodicesima sta recuperando noi nel frattempo con l'uscita di pista che ci ha costretto diciamo a perdere tempo ci troviamo a dover lottare con le due Red Bull di Ricciardo e di Verstappen questa è l'ass quello lì dietro è Rosberg che lui sta recuperando su Gutierrez e qua il Gutierrez moment non poteva mancare e rompe io non vorrei dire ma due sorpassi la Mercedes e due motori che rompono cos'hanno i rostri non lo so però sai Gutierrez il prossimo anno non lo vedremo più in Formula 1 anche se ha pagato profumatamente ma i suoi soldi non l'hanno accettato ugualmente andrà a correre con la Formula E che è quella elettrica male che vada non rompe il motore non vede il fumo si pila la scossa poi non lo so qua si sta riproponendo quello che più o meno è successo nei primi giri cioè noi adesso abbiamo montato le gomme rosse e Rosberg ci sta risuperando perché a livello di prestazione è nettamente superiore sì era Hamilton scusate non era Rosberg abbiamo dietro le due Toro Rosso in questo caso Sainz e Kiviat e noi stiamo facendo un po' come i primi giri che cerchiamo di tenerceli tutti lì dietro facciamo fatica non so se l'avete visto l'assetto è buono ma mangio alle gomme come come cosa e la prima cosa che mi viene in mente è come con un braccio di ferro in panini però comunque queste qua sono le due Red Bull che si si stanno combattendo fra di loro le sciamolate nel frattempo però noi con le gomme rosse siamo aggressivi quanto basta per andare davanti a Hamilton ma Hamilton ovviamente in questa gara le abbiamo già abbondantemente rotto di Zebedei e quindi non è che stia tanto tanto tranquillo e appena può lui cerca subito di riposizionarci davanti anche perché volerò volare siamo noi che ci stiamo giocando il mondiale con il tizio eccoci qua un po' quello dei primi giri Tappone Tocatina ci supera e da qua ragazzi parte un combattimento in stile autoscontri perché continuiamo a darci sportellate praticamente vabbè cioè lui ci prova allora vedete che noi ci rinfiliamo subito tum colpettino e riusciamo a passare davanti ma noi fa tempo giusto di fare il motorhome riusciamo a dare il trino principale e lui ci attacca di nuovo e allora noi nella frenata diciamo vediamo un po' se riusciamo ad allungare sta frenata è uno e due e due e poi c'è e poi c'è 2 senza 3 e lo mandiamolo anche a quel paese e quindi così non ci sbagliamo e riusciamo però ad andare davanti e in tutta questa nostra pervicaccia lotta Sainz si è portato davanti a Emmental mentre invece Rosberg ha superato l'altra e quindi a livello di mondiale anche se siamo dietro male 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 non va assolutamente però Sainz gli viene la malsane idea di provare a superare anche noi e no diciamo che adesso essere superati addirittura da Sainz piuttosto lo mandiamo in mezzo alle tribune esatto quindi riusciamo comunque a rimanere nella terza posizione classifica dopo 45 giri nasce il compact disc l'ho scritta so è una boiata l'ho messa così le due Ferrari Bottas un grandissimo Alonso per la felicità di Pierluigi è già vero salutiamolo Pierluigi se no ci dimentichiamo e noi al quinto posto e noi al quinto posto mi sembra che nella prossima clip invece andiamo a vedere il cambio gomme ah no 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 siamo ancora siamo ancora in lotto no il prossimo qua siamo andati fuori pista e niente veniamo superati di tutte le macchine che erano dietro quelle che avevamo prima dietro si andiamo adesso al cambio gomme tra l'altro guarda come esce uno entra l'altro e montiamo le bianche così perché tutti le avevano messe e le mettiamo anche noi e noi siamo in ottavo posizione gomme bianche che tutto sommato si verificheranno non sarà poi la scelta migliore tant'è noi cosa stiamo facendo stiamo cercando di recuperare rispetto a Rosberg che è in settima posizione siamo in ottava mancano cinque giri dalla fine ma purtroppo ci rendiamo presto conto che la scelta della gomma conservativa bianca non sarà una buona idea e no non sarà quella efficace perché non perdiamo ma non guadagniamo terreno mentre prima questo è Alonso con Hamilton non l'ha presa tanto bene il sorpasso con Hamilton no non l'ha presa tanto bene ah in questo caso però se Hamilton recupera posizioni anche Rosberg non è da meno perché vedete in questo caso è l'attacco su Ricciardo che va a buon fine direi che siamo arrivati ormai alla parte conclusiva della gara ecco qua Kimi Ray-Konan che va a tagliare il traguardo e va lì davanti un doppiato e va a vincere la sua prima gara nella Playstation 2016 perché nella Formula 1 reale non l'ha mai vinta una e molto lo scordi esattamente abbiamo il tempo di andare a vedere il podio a questo punto sì lo potete vedere in tutta la sua felicità e beh sì una bella vittoria io spero che il prossimo anno Kimi riesca a vincere che comunque si deve concludere che concluda la grande e la sua carriera lasciamo la parola a Carlo Vanzini noi vi salutiamo già adesso perché dopo lasceremo i saluti finali ai veri commentatori del gioco sì il prossimo Gran Premio andiamo nelle Ardenne in Belgio circuito Spa e quello lì esattamente un gran bel circuito da contropaglio alla prossima e ora e ora passiamo passiamo ai costruttori oggi il leader della classifica non ha brillato e il suo vantaggio si è ridotto notevolmente nel frattempo la Ferrari ha migliorato la propria posizione ottimo weekend per questa scuderia che avanza in classifica siamo arrivati al termine di questo weekend l'appuntamento è per il prossimo emozionante Gran Premio di Formula 1 Gran Premio